allora ragazzi buongiorno nuovo video maglioni tra i maglioni adatti all'inverno consiglio di moda spero che questi video vi interessino anche tendenze 2024 forse l'ho già fatto o lo devo ancora caricare comunque scusate i bambini che escono da scuola e fanno casino allora maglioni per l'inverno 1 maglie maniche a spuffo come quella che ho comprato su sheen che vedrete in altri video quando farà caldo che adesso va ancora freddo seconda maxi cardigan lunghi e aperti senza bottone a me piacciono tantissimo sia corti che lunghi poi pullover a collo alto quindi maglie a collo alto io ne ho tantissime uno rosso uno nero uno beige marroncino color caffè latte io ho la fucsia così colore così fucsia viola bellissimo pullover a collo alto sono queste le maglie che servono per l'inverno per tener caldo e anche per essere fashion mi piace tantissimo parlare di moda anche se non seguo la moda io per niente non sono assolutamente modaiola direi e comunque il tartan mi piace tantissimo come stile come tendenza e molte ragazze quando ho comprato quei pantaloncini con una pantalone mi hanno detto no ma il tartan va bene solo a natale con questo video vi contraddico ma non sono io che do consigli di moda ci sono tante ragazze su instagram su youtube su facebook eccetera che danno consigli di moda e io vi do consigli che ho visto da queste ragazze insomma allora il blazer tartan è bellissimo bellissimo lo vorrei anch'io è una cosa che va molto di moda tutto l'anno si può usare non solo a natale poi i top o le magliette tartan bellissimo bellissimo con corte o lunghe tartan quindi a quadretti scozzesi pantaloni con e short tutto insieme queste sono le cose che si possono usare non solo a natale io il tartan lo adoro lo amo alla follia colori di tendenza 2024 il rosso rosso tutto rosso in tinta unita il nero vabbè è un evergreen non lo dice nessuno che il nero è di tendenza rosso è di tendenza rosso tutta la vita beach foods non lo so beach color pesca e l'ho visto in giro in tanti negozi il color pesca bello mi piace arancione pesca il verde mi piace il verde mi piace ho una camicia verde con del nero bellissima se trovassi una maglia in tinta unita verde un pullover scollo rotondo morbido per l'inverno mi piacerebbe un pullover verde poi il beige beige color biscotto colore del pan bauletto colore del pane insomma quasi un marroncino un color nocciola mi piace il beige mi piace tantissimo come colore ho poche cose beige di vestiti quasi niente praticamente è una sciarpa beige e basta brilla con simona su instagram una pagina di moda questa donna il color oro il dorato come l'ognomo dietro di me lì col cappello dorato il dorato fa molto di moda oro vero oppure finto oro bigiotteria come questa collana e va bellissima bellissima loro va molto di moda a me piace tantissimo la bigiotteria finto oro perché io di oro vero non ho niente in casa questa collana qui agata me l'ha regalata ed è bellissima piccolino il cuoricino ma è stupenda la metto sempre quando esco mi piace tantissimo andava anche di moda forse l'anno scorso più per capodanno l'argento i pantaloni argentati e le scarpe argentate borse argentate adesso questi sono i colori che vanno di moda beige verde oro rosso e peach foods non so come si dica brilla con simona ha una pagina di moda questa donna molti canali su youtube appunto l'ho detto già prima molti canali parlano di moda a parte parlare di ricette di cucina fatemi sapere commentate se vi piacciono questi video ne faccio altri balsamo labbra kiko c'era un rossetto bellissimo blu glitter street love mi sembra che si chiami della stellar love galactic hydra balsamo labbra con i glitter della kiko appunto si packaging blu 13 euro 99 carissimo non lo comprerò di sicuro anche se era bello poi c'è un associazione per salvare per aiutare il pianeta essere un posto migliore non c'entra niente con la moda ma voglio parlarvi di questa cosa un attimo si chiama plastic free e in piemonte a torino io non sono di torino quindi non posso andare in centro a torino comunque in piemonte in calabria in abruzzo in campagna dappertutto c'è questa associazione tante persone associazione plastic free tante persone camminano per i propri paesi per le città per raccogliere l'immondizia dalle strade dai campi dalle colline insomma dalle vigne eccetera eccetera l'associazione questa plastic free si chiama e vi consiglio di andare a seguirla seguite questa associazione io purtroppo nel paese dove sto non la fanno non c'è questa associazione nel paese dove sto però assolutamente se ci fosse nel paese mio andrei a far parte di questa associazione plastic free perché è bello che molte persone vogliono rendere il posto migliore il mondo un posto migliore io sono in un paesino piccolo di immondizia ce n'è poca fortunatamente ma voi se vivete in grandi città dovete fare del vostro meglio per pulire il pianeta per rendere veramente il pianeta un posto migliore ragazzi è perché sennò viviamo nello schifo nello sporco già c'è la violenza e non va non faccia bene quello bisogna aiutare le persone e tutti quanti dobbiamo fare del nostro meglio per vivere bene e per vivere nel pulito non solo in casa nostra ma anche il mondo deve essere un posto pulito per i bambini che nascono che nasceranno che sono nati eccetera eccetera e anche per noi stessi finché non moriamo dobbiamo vivere bene ok quindi assolutamente fate qualcosa anche voi piccoli grandi di età fate qualcosa tutti possiamo fare del nostro meglio per il pianeta ok a presto